Ci troviamo all'interno del World Museum Winterline Benafro, un museo privato realizzato interamente da me, Luciano Bucci, in collaborazione con i miei amici Renato Dolcigno, Donato Pasquale, Rosario Malfatti, Domenico Vecchiarino, Fernando Pirolli, Iuri Giafrancesco, Andrea Ottaviano e Alessandro Vallone. Siamo un'associazione di collezionisti, il museo è stato fondato nel 2007 ma la collezione risale a più di 30 anni fa, abbiamo iniziato a collezionare quando eravamo ragazzini e il museo narra gli avvenimenti accaduti a Benafro e dintorni, su quella che i tedeschi chiamavano linea Bernard, però gli alleati la ribattezzavano Winterline perché i combattimenti avvengono nell'inverno tra il 43 e il 44, quindi trascorso l'inverno combattendo sulle alture tra Benafro e le Mainarde e questa linea del fronte è quella che noi abbiamo voluto raccontare con questo museo. Qui la vediamo rappresentata su questa mappa, la Winterline è questo tratteggio che si vede qui, che andava appunto dagli Aurunci fino alle Mainarde, Benafro è nel centro, i punti cardine erano la Casilina e le montagne a nord di Benafro. Ci sono state battaglie molto importanti su questo territorio, una fra tutte la battaglia di San Pietro in fine e Mignano Montelungo, che avete coinvolto anche noi italiani come prima operazione di collaborazione con gli alleati, ma anche la battaglia di Montepantano, la battaglia di Montella Defensa, la battaglia delle Forze Speciali, la battaglia delle Mainarde dove anche gli alpini italiani si sono distinti, quindi un territorio ricco di storia che noi abbiamo voluto omaggiare e raccontare con il nostro museo. Gli alpini italiani del Regno del Sud? Sì, alpini e battaglioni Piemonte, sì. Qui da noi nasce il primo raggruppamento motorizzato, qui da noi, sulla battaglia di Montelungo, che poi diventerà corpo di una deliberazione con la battaglia di Montemarrone, che nel battaglione Piemonte appunto sarà il motore trenante di questo successo. Ecco, qui c'è un manifesto di foto, un puzzle in pratica. Veniamo a indagarle una per una in ordine. Qui vediamo una prima con un tessuto di rare strade. Sì, quella è la piana di Venafro, vista da sud, gli alleati facevano voli di ricognizione per analizzare il territorio. Dove sta Venafro? Eccolo qui, Venafro qui nella parte pedelontana. Questo è Venafro e questo è il tessuto agricolo di Venafro nel 1943, sostanzialmente, quando si stava facendo ricognizione per capire l'attività nemica. Qui lo vediamo un po' ingrandito, questo è Venafro con il verlace e la ferrovia che spiccano. E anche qui vediamo Venafro in un volo per foto perpendicolare per vedere eventuali installazioni militari. Ci sono alcuni punti segnati, qui vediamo una A, una B, una D, che sono sicuramente dei punti segnati dagli osservatori di eventuali attività nemiche. Veniamo a una foto a cui sono affezionato perché da bambino, quando passavo per Venafro, vedevo questa scritta della toponomastica, Venafro, che sembra una chiesa. Sì, questa è la Cappella di San Donato, ancora adesso esistente, per fortuna, che presenta sul lato la tipica scritta di paese con l'altezza a livello del mare del paese e diventa una sorta di icona per gli alleati. Tutti quelli che passavano di qua facevano una foto, ricordo, in questo punto. E anche gli alleati, quando arrivarono a Venafro il 4 novembre del 43, non si trattarono in tiro in questa usanza di fare una foto, ricordo. E ultimamente abbiamo anche realizzato un pannello informativo, proprio nei pressi della Cappella, per ricordare questo ingresso degli alleati 80 anni fa, il 5 novembre del 43, qui da noi. Ecco, poi dopo ci sono delle foto con delle macerie, qui vedo. Sì, questo prende, sono foto di luoghi particolarmente conosciuti di Venafro, questo è Piazza Vittorio Emanuele, ho detto anche Porta Nuova. Ma fu bombardata? L'artilleria alleata, l'artilleria alleata colpiva questo territorio. Venafro fu bombardata per errore il 15 marzo del 44, ma quello è un altro episodio. Queste foto risalgono a un periodo precedente, il 15 marzo del 44. Qui vediamo i francesi che fanno un federale, un ufficiale presso il Convento di San Nicandro. Un carro cucina che distribuisce cibo agli sfollati qua di Venafro. E ora veniamo qui così. Qui invece siamo sempre a Venafro. Sì, sì, questa è la piazza del municipio, questa è la torre medievale davanti al municipio e sostanzialmente probabilmente stanno andando a fare una cerimonia, una messa, qualcosa sull'annunziata. Qui invece vedo uno spazio che sembra lo spazio dedicato al cimitero, mi sbaglio. E' il cimitero francese in realtà questo. Queste sono le fasi di realizzazione del cimitero francese. Qui è proprio la realizzazione delle prime tombe e qui quando comincia a prendere forma come cimitero francese così come lo conosciamo. E qui però vedo più che francesi sono marocchini, algerini, berberi. E allora erano inquadrati all'esercito francese. Hanno lasciato buoni ricordi qui sul territorio? Buoni ricordi no, ma sicuramente non hanno attuato le violenze sistematiche che conosciamo essere state fatte in Giociaria. Qui da noi si annoverano pochissimi casi di violenze da parte delle gruppe marrocchine coloniali. E come mai questa diversa forma di comportamento? Io credo perché fossero sotto il controllo della quinta armata americana, mentre invece in Giociaria non avevano quella forma di controllo. In Giociaria erano più autonomi. Era la seccio francese in Giociaria, riuscì a organizzarsi autonomamente, quindi non dipende direttamente dalla quinta armata americana. Invece qui la quinta armata americana aveva un forte controllo territoriale e delle sue unità dislocate. Prima mi stavi indicando questo intreccio di fili che ha anche del curioso e del misterioso. Sì, perché uno dei problemi che gli ha letto di affrontare era proprio l'organizzazione del campo di battaglia. L'avanzata non è fatta soltanto ai soldati, è fatta anche di logistica e infrastruttura. In quei tre problemi c'era appunto quello di connettere le comunicazioni, quindi dalla prima linea alle retrovie, quindi si faceva tutto quanto via cavo, chilometri e chilometri di cavo, ovunque. Ma anche la logistica, portare il materiale in montagna non era facile e bisogna affidarsi ai muli. Questo sarà anche il primo momento di collaborazione tra gli alleati e gli italiani. E qui vedo dei giovanotti, chi sono? Qui sono due venafrani, erano due ragazzi venafrani, Giosuè e Lepore, Nino e Giovanni Leva, che sono praticamente in compagnia di un italo americano. Tanti italo americani vengono qui a combattere e facevano in qualche modo da legame, da punte di comunicazione con le truppe alleate. Qui dove siamo, questa foto? Qui siamo di fronte praticamente alla cappella di San Donato. Siamo sostanzialmente più o meno qui. Siamo più o meno qui e stiamo guardando verso Santa Croce. qui è appunto il primo punto da conquistare. Santa Croce e Montecorno sono le prime battaglie che si faranno qui intorno. Qui vedo sono americani che cercano le mine o sbaglio? Sì, sono paragali di Steccio, 204esimo nella ricerca appunto dei campi minati, la Bonifere di Cambiari. Questa è una foto di propaganda ma mostra quello che è data l'attività normale. Gli accampamenti sul nostro Parco dell'Olivo o anche Campaglione. I problemi con il torrente Rava e il Volfiume-Voltunno, bisognava ricostruire i punti e quant'altro. Qui sopra è ancora più evidente con il Ponte 25 Archi. Queste sono foto scattate dai cronisti fotografici della LIFE? Qualcune, altre sono foto del privato o anche foto del reporter di guerra di altre testate giornalistiche o intelligence anche per documentare attività. Ma voi queste foto le avete prese da internet o le avete comprate al museo, all'archivio? Non comprate ma diciamo copiate all'archivio. Io sono stato due volte in l'archivio nazionale di Washington a fare ricerche e ho potuto accedere alle foto. Quindi vi hanno autorizzato? Sì, sì, sì. Ecco, qui è un episodio particolare, questo è la messa di Natale fatta al Campaglione di Venafro, al Parco di d'Olivo di Venafro. C'è qualche episodio che merita di essere sottolineato, qui fotografato? No. Qui vedo G. Gioe Frommo Venafro. G. Gioe Frommo Venafro è un cartello che fu realizzato da un soldato della 45esima divisione, si suppone sia Bill Maldin, un fumettista che appunto inventò questo fumetto Willy e Joe, due soldatacci che passavano i guai sul fronte e siccome lui fu ferito qui a Venafro si suppone che quel cartello l'abbia fatto lui, Gioe Frommo Venafro, soldato Joe da Venafro, una firma che ha lasciato qui sul territorio. E' anche scritto sul... dove è scritto qui? Non è segnato? G. Che cosa? G. No, ma ecco qui. G. Sì, Bill Maldin, sì. Questo è il ponte 25 Archi? G. Sì. G. Ma mi è stata raccontata una storia che era stato minato dai tedeschi, poi dopo era stato salvato rerogambolescamente non credo proprio quindi è una leggenda ebbè, le foto parlano chiaro anzi addirittura oltre che fatto saltare i tedeschi fu anche preventivamente colpito dai bombardieri americani fu prima danneggiato dagli americani e poi fatto saltare i tedeschi ma la storia di un ponte che un atto eroico di gente del Molise ha impedito che saltasse in aria c'è o poi è stato qui da noi no, qui da noi non mi risulta qui il torrente raro perché è importante no, non è che è importante è la dimostrazione di come funzionava la logistica, bisognava costruire i ponti e andare avanti e qui siamo sul fiume Colturno sì, questa è la località Ponte del Re dove entra il confine con la Capriati ecco, andiamo avanti qui abbiamo delle altre foto sì, questa è la fronte sostanzialmente questa che rappresenta vedo un cuneo di monte sì, questa è la cresta della montagna questo è Monte Corno qui c'è Santa Croce questo è il San Mucro la linea del fronte questa è Conca Casale e Venafra e Quaggiù qui siamo pre Cassino in pratica sì, noi siamo la Bernard è una linea che anticipa Cassino di molti mesi di circa quattro mesi siamo stati la prima linea di offensiva tedesca che gli ha letto dovuto affrontare sull'appennino centrale in questa zona ecco, che limiti aveva la Bernard? dalle Aurungi fino alle Maynard andava come linea difensiva e si era avanti alla Gustav di circa 7-8 km in linea d'aria ecco qua teniamo ancora fila di muli se non sbaglio sì, i muli diventarono i migliori alleati dei soldati di entrambi i fronti senza i muli non si andava da nessuna parte ecco, questi che vediamo sono muli americani o muli tedeschi? sono muli americani questi qui che veramente sono muli italiani perché poi i muli americani non avevano i muli se requisito dei muli erano italiani ma erano buoni mulattieri qua mi sembra un po' li vedo un po' impacciati infatti molte volte vediamo gli italiani stessi che si occupavano dei muli ed è quella la prima forma di collaborazione che ci sta tra gli italiani ed alleati invece qua giù che è un bombardamento sì, questa è una sequenza di foto di conca casale bombardata agli alleati tra il 20 e il 29 novembre il 43 questa sarebbe la prima delle eh sì queste qua sono le prime bombe sì poi la nube poi la nube ancora più intensa ecco veniamo ora a questo di sotto e vedo novembre 43 Monte Santa Croce barellieri portano a valle feriti feriti in battaglia è così? esattamente perché purtroppo non c'era modo di accedere con i mezzi sopra le montagne quindi tutto veniva fatto dalla fanteria a spalla o con i muri anche il trasporto dei feriti qui vediamo postazioni piuttosto difficili per cui sì purtroppo le nostre montagne non sono amichevoli sono molto impervie e quindi anche per i soldati stare in postazione non era facile ecco di nuovo una teoria di muli sì questa volta c'erano anche gli italiani tra di loro che portano questi facciano il metto italiani c'erano quindi sono italiani insomma i mulattieri sui italiani sì 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 ecco qui ancora siamo in una specie di trincea sì questa è una crista di qualche collina qui intorno tra Venafra e Conca Casale qui? questa è nella zona del Demanio al nord di Pozzilli è un punto di smistamento della posta qui le carri armate nella neve sì questa è la strada che va verso il Demanio verso acqua fondata da Pozzilli fu una delle strade carrozzabili che fu conquistata dagli alleati qui che porta addosso questo soldato? una radio quindi è un radio telegrafista sì sì ecco mi aspettavo che fossero francesi invece questi sono francesi questi qua sono francesi questi sono francesi e dietro ci stanno i marocchini sì insieme stanno i marocchini davanti ci sono gli uomini andavano gli ufficiali perché mi sembra dai lineamenti del primo dove essere no è armato sì sono ufficiali sì è un ufficiale poi vediamo un po' ancora qui ci sono gli nostri amati i marocchini stanno dinanzi a una chiesa o sbaglio? sì questa è una chiesa che si trova tra acqua fondata e nel Valderodonda qui mi stringe il cuore a vedere quella donna con la conca in testa che passa in mezzo a tutti questi amici di famiglia qui ripeto qui da noi per fortuna ci fu abbastanza controllo quindi questa donna non subì la sovrotta delle amiche assolutamente no le consorelle ciociare ciociare la chiesa è bombardata? questo è Casal Cassinese pensavo fosse conca casale ma in realtà è Casal Cassinese poi con delle ricerche più approfondite perché la didascalia parlava di casale pensavo fosse conca casale invece è Casal Cassinese invece la cartina qui di questo fronte che movimento queste sono le unità principali che combattirono qui da noi la 45esima divisione nella parte diciamo da Pozzilli andando verso sud-ovest e la 34esima nella parte da Pozzilli andando verso nord-est qui diciamo ai muli è stato dedicato veramente grande spazio fotografico beh perché sono le foto più caratteristiche del territorio mostrano ampi scorci quindi erano anche utili per definire il territorio stesso questo è il Roccapipirozzi per esempio qua su questi sono altri muli mentre caricano di questo abbiamo anche il filmato di questa sequenza dove l'avete preso al Nara sì anche quello là ecco invece quest'altro bombardamento forse meglio cannoneggiamento spesso sono cannoneggiamenti questa è acqua fondata quanto dista da Venacro? beh 20 chilometri meno anche qui ancora vediamo un po' macerie o sbaglio? è sempre acqua fondata sì che sono questi sono francesi francesi sì la parte nord del fronte era più che alto gestire dei francesi qui il museo quali spazi geografici delimita nel racconto? da da Mignano dalla Defensa fino a Le Mainarde come spazi geografici il periodo novembre febbraio ecco qui dove siamo? nella piana di Venafro sotto Rocca Bibirozzi è un'artiglieria alleata nella piana di Venafro e qui bello questo cingolato che tipo di mezzo è? questo è un half track americano che si trova sulla strada che passa in vitri in fine da Venafro beh hanno sempre un che di affascinante però non l'abbiamo finito mi sembra qui leggendo il pannello che dove ci troviamo qui questa è sempre la zona del fronte però è una fase successiva ormai il fronte che sta andando verso la busta a gennaio del 44 comincia questo passaggio del fronte dall'altra parte quindi abbiamo avuto 6 attività diverse il retro fronte esatto ed è sempre Venafro questo è Collia Voltullo quello in particolare questo qui è Collia Voltullo sì sì questo è Collia Voltullo si poi ci sono Bozzilli Venafro San Vitture quindi cosa è Collia Voltullo anche questo accanto diciamo tutto questo pannello no sono queste piene tre foto e Collia Voltullo e qui invece vediamo il signor Clark a Rocca Ravindola e con chi è? sta con l'atticinale Lucas e non ricordo il nuovo il colonnello alle spalle qui è il filignano questo è il filignano questo è il filignano dopo la conquista parte alleata diventa un ottimo posto di retrovia c'è anche una cannonata che ha perforato quasi senza fare ulteriori danni eh per fortuna non è esplosa probabilmente qui ancora questa è la plana di Venafro sono piloti dell'aeronautica neozelandese c'era l'aeroporto a Venafro per i caccia e i ricognitori che operavano sul territorio eccole là sono all'interno nell'angolo lì mi vedi di qua fammi vedere eccole qua questi sono proprio gli Spitfire della Nuova Zelanda eh qui però questo è invece un ricognitore alleato che in questo caso è l'aereo privato di Asenau perché Asenau venne a Venafro a visitare le truppe a dicembre del 43 qui invece vedo questa è famosissima questa foto dell'americana che non non c'ha l'ans dai panni sporchi da lavare a quella poveretta lì beh venivano pagata era un modo anche di aiutare la popolazione civile le nostre donne si facevano le massaie per loro per guadagnare qualche soldo per mangiare qualcosa e queste sono volontarie della WAC la parte femmina dell'esercito diciamo e quindi ecco e questo bambino l'hai conosciuto? no non sappiamo chi sia ho provato a chiedere ma non sappiamo chi sia qui vedo il cimitero di Venafro queste sono le truppe polacche fanno una messa al cimitero di Venafro ma è il cimitero civile cimitero civile qui è sempre la stessa manifestazione no queste sono truppe americane in una zona della piana di Venafro dove fanno la cerimonia di Natale praticamente e qui questo è il lavatoio di Venafro praticamente il luco dove si lavavano i panni e durante la guerra anche i soldati lo utilizzavano proprio da un altro ponte rotto quello è Pozzilli sì Pozzilli sì sì e il ponte è su un fiume su Marava è un fiume un fosso molto ampio ecco qui torniamo ancora a Pozzilli è un accampamento sono ospedali sì con una realizzazione della pianura per Pozzilli più ospedali militari per curare i feriti molti di loro erano gestiti dai francesi stessi insomma l'antesignamento della Neuroment in qualche modo sì e qui ancora sempre sì sì tutto quanto una sequenza di foto che vengono all'ospedale americano alleato a Pozzilli sì e queste signore invece sono il personale dell'ospedale sono infermiere del personale dell'ospedale questo pantano che vediamo qui il fango fu una delle condizioni anche oltre le montagne limitanti l'avanzata pioveva sempre tutto fangoso quello vediamo ancora di più in questa foto quindi ci sono tante testimonianze di come questo fango fosse un grosso ostacolo da gestire per entrambi i fronti siete dei schieri delle atiche pare il 43 e il 44 sia stato l'inverno più piovoso esattamente sì così dicono le testimonianze del 900 almeno fino all'ora qui vedo c'è una conoscenza il generale utile il principe Umberto di Savoia infatti fa un certo effetto qui dove siamo qui siamo a Rocchetta Volturno a Castelnuovo dopo la battaglia di Monte Marrone o prima non ricordo ci fu questo incontro tra il generale utile e il principe Umberto e qua giù qui sono i piloti dell'aeronautica neozelandese dell'aeroporto di Benafro neozelandese sì sì e qual è l'aeroporto? quello di Benafro Benafro? sì c'era un aeroporto? sì per ricognitori e caccia e invece questo paesino così bello è di nuovo acqua fondata questo è di nuovo acqua fondata però è un passaggio successivo del fronte qui invece San Vittore abbiamo un'altra location sì questo è San Vittore San Vittore questi soldati non si sa chi siano? sono soldati del 48esimo e 235 battaglione di ingegneri ecco qui c'è scritto la Winterline immagini dell'area di Benafro dintorni tra il novembre 43 e il febbraio 44 ecco che logica sono state inserite queste foto ecco qui che si vede sembra Benafro sì sì questo è Benafro in realtà ottobre 43 sono foto fatte dai tedeschi sul tetoro di Benafro e mostrano diciamo il loro punto di vista mentre gli alleati cominciavano a colpire questa zona loro erano qui a organizzarsi anche questa è una foto tedesca? sì quindi i tedeschi fanno vedere i risultati del cannoneggiamento alleato degli alleati c'è un po' di polemica forse nella foto no guerra è guerra secondo me più che altro anche a livello loro di logistica e di intelligenza non è di propaganda no la guerra si sa che fa questo anche perché alla fine gli alleati stavano avanzando da sud quindi era concepibile che sarebbero arrivati a colpire queste zone qui vedo infatti un soldato tedesco sì questa foto è fatta proprio in successione con le altre qui vedo ancora la chiesa del purgatorio sì e poi qui quest'altro scorcio è sempre l'albero della chiesa sì è la stessa zona per rendere vista un po' più avanti la stessa foto di questa vista un pochettino più avanti a maniera più ampia queste invece sono una foto americane fatte da paracaudisti di propaganda per far vedere il fronte ci furono molti bombardamenti su Venafro l'artiglieria alleata bombardò almeno sei volte bombardò tra ottobre e novembre quando arrivarono bombardò almeno sei volte poi durante la presenza alleata qui i tedeschi contraccambiarono e poi il 15 marzo il 44 ci fu l'errato bombardamento aereo che ci scambiarono per Cassino e ci colpirono gli americani e questo sfumo con questi ragazzi chi è? è un italo americano un soldato americano con due ragazzi qua di Venafro il ragazzino a destra Pio Ricciardi è ancora vivo è una persona che conosco e che ha raccontato qualche dettaglio di questo momento sì ricorda che questo signore era un boxer uno che faceva la box infatti dice che si divertiva a sfidare un po' i suoi commiguitoni a soldi per fare a box con loro con lui? sì e quest'altro? quello è un soldato del disco sulla strada che va da Venafro a San Pietro in Vina e come mai l'ha raccolto? che cosa? lo hai collezionato eh beh una foto di Venafro noi tutte le foto che riguardano il territorio le salviamo ecco e questi chi sono ancora? questo è un portaordini del Commonwealth sempre di fronte alla plaza classica Chiesetta di San Donato qui vedo Barellieri del quarto ranger sì quarto primo ranger erano su la stessa zona questo è il sentiero che unisce Venafro a con Casale qua che c'è scritto? c'era un soldato vicino Venafro Venafro questo errore tipico degli americani questa chiesa qui? quella che sembra il cimitero ci vede di Venafro però quando diventò ospedale da campo e qui vedo Cepagna sì questa è la piazza di Cepagna dove c'è la chiesa con anche l'indicazione del campo di prigioni tedesco cioè per soldati tedesco questo PW e per indica dove sono con sé con prigioni di Wehrmacht esatto sì che c'è Grazie.